Sono un designer analogico e mi occupo della progettazione microelettronica. Gli open days per me sono stati un'opportunità veramente importante perché mi hanno permesso di effettuare successivamente a questi open days un tirocinio curriculare per la stesura della tesi di laurea e successivamente ho avuto l'opportunità di entrare a far parte di questa grande azienda. Ho conosciuto ST proprio grazie agli open days e grazie a questo collegamento che si è creato tra l'Università della Calabria, dalla quale provengo, e il ST col sito di Catania. In primis ho partecipato semplicemente con la voglia di fare, poiché l'elettronica è la mia passione, Grazie a tutti!